Più del 50% degli italiani dice di non voler fare il vaccino contro l'influenza. Soltanto il 33% è favorevole. Vengono considerati poco sicuri, non così importanti per contrastare la malattia. Per superare la diffidenza ancora troppo diffusa in tema di prevenzione, Federanziani rinnova come ogni anno il suo appello a vaccinarsi e in particolare ricorda l'importanza della vaccinazione antipneumococcica e del vaccino anti-influenzale audiovato. Il problema è legato ad un fenomeno biologico e naturale legato anche alla modalità di produzione del vaccino. Mi spiego meglio. Il fenomeno che fa perdere o rischia di far perdere talvolta l'efficacia della vaccinazione anti-influenzale è il fenomeno del mismatch, ovvero sia il virus viene identificato durante il mese di marzo e su quello si lavora per fare il vaccino. E non è detto però che quel virus nel momento stesso in cui si presenta alla nostra popolazione, quindi nei mesi che vanno da fine dicembre, gennaio e qualche volta anche gennaio inoltrato, corrisponde esattamente al genotipo che è stato identificato. È per questo che un vaccino adiuvato assume un'importanza fondamentale perché mentre lo split riproduce una sorta di frullato di proteine antigeni che quindi sono quelle che ci fanno creare l'anticorpo, corrisponde esattamente al genotipo identificato durante il mese di marzo, mentre invece un vaccino adiuvato allarga un pochino di più la forchetta di protezione e quindi inevitabilmente offre garanzie di miglior sicurezza e di migliore efficacia.